Nel tradizionale incontro di fine anno la presidente della provincia di Padova, Barbara De Gani, ha ringraziato i volontari di protezione civile per lo straordinario lavoro svolto nel 2010. Penso che il riconoscimento più grande sia la grandissima stima che i cittadini padovani e non hanno nei confronti dei volontari della protezione civile. Si è visto proprio in questi giorni quando i volontari escono, ci sono proprio i cittadini che gli vanno incontro, che gli chiedono addirittura informazioni. Io li volevo ringraziare sia per il lavoro che hanno fatto nell'emergenza con grandissima professionalità, ma anche nel lavoro che hanno fatto nella post-emergenza, anche nella vigilia di Natale ci siamo trovati a guardare gli argini quando l'acqua saliva. Quindi davvero un grazie sentito da parte dell'amministrazione provinciale a questi uomini e a queste donne che si sono spesi moltissimo nel corso di questo anno. Più che un premio è la consegna degli attestati di partecipazione ai corsi, la consegna dei tesserini regionali che consentono di completare le attività di protezione civile eseguite appunto nel corso del 2010. Perché oltre alle emergenze in cui i volontari sono stati impegnati hanno comunque fatto tutta una serie di corsi di formazione che hanno consentito appunto di avere queste attestazioni che sono fondamentali poi nel momento in cui vengono chiamati ad operare. Ormai la protezione civile sta sempre più professionalizzandosi e quindi questo vuol dire cosa? Che noi dobbiamo investire nella protezione civile su due fronti. Prima sulle attrezzature, secondo però la parte più importante a cui ci tengo è nella formazione. Grazie. 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 Grazie.